Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Oggi giro la seconda parte delle letture dell'estate perché come vi ho detto nel video precedente durante l'estate ho avuto alcuni mesi di stallo ma agosto ho recuperato e ho letto un po' di libri dato che non avevo girato dei video appositi per le letture che ho fatto ma soltanto dei book vlog che tra parentesi vi sono piaciuti molto, grazie ho deciso quindi comunque di dedicare dei video in maniera più approfondita alle letture che ho fatto quindi eccoci qua pronti per parlare della seconda metà dei libri che ho letto durante l'estate comincio con un libro un po' particolare ovvero Due fighe e altri animali feroci di Leo Ortolani in questo libro Leo Ortolani che è tra parentesi l'autore, il creatore di Ratman se quindi il nome non vi suona nuovo è anche un padre adottivo ed ha scritto questo libro parlando della sua esperienza per l'appunto di adozione quindi ha adottato due bambine colombiane due sorelline allora diciamo che questo libro è famosissimo nel mondo dell'adozione me l'hanno consigliato veramente tutti tutti coloro che stanno adottando, hanno adottato, hanno letto questo libro quindi è diciamo un must no? per tutti coloro che affrontano questo percorso mi aspettavo veramente meraviglie lui racconta questa storia sia attraverso le parole che attraverso alla fine di ogni capitolo insomma ci sono anche dei fumetti molto divertenti che raccontano un po' le diciamo i vari avvenimenti nei primi giorni insieme con le figlie quindi dedica una piccolissima parte all'inizio al prima quindi tutto quello che un genitore adottivo deve fare per poi adottare per l'appunto e poi la gran parte del libro è dedicata al momento in cui loro vanno effettivamente a prendere le proprie figlie rimangono lì per diverso tempo perché in Sud America anche per noi sarà così in Perù bisogna rimanere diverse settimane e quindi raccontano un po' le prime esperienze da genitori quando insomma hanno conosciuto le loro bambine allora il libro in realtà almeno non ha convinto in pieno per diversi motivi allora prima di tutto un libro che parla di adozione viene letto io credo per oltre il 50% da persone che ancora non hanno adottato ma che stanno cercando di ingannare tra virgolette l'attesa leggendo le sensazioni e le esperienze di chi ha già adottato quindi dedicare così tanto alla parte dopo quindi al dopo aver adottato a me non piace tantissimo ho letto molti altri libri sull'adozione dove i genitori dedicano un po' di attenzione anche alle paure, ai sentimenti, alle sensazioni alle gioie, ai dolori dell'attesa e io essendo in questa fase qui avrei avuto il piacere di leggere qualcosa in più su questo due in questo libro secondo me si parla in maniera troppo approfondita delle prime settimane insieme cioè secondo me dopo un po' annoia la cosa cioè vedere che questi due bambini fanno confusione aprono le bottiglie, chiudono le bottiglie, aprono le bottiglie, chiudono le bottiglie questo è ripetuto tipo 600 volte e la bambina più piccola fa la cacca, fa la cacca, fa la cacca, fa la cacca ok abbiamo capito è bello leggere delle difficoltà che un genitore adottivo riscontra nel ritrovarsi appunto genitore da un giorno all'altro di bambini che non sono neonati quindi hanno già qualche anno d'età ma qui mi risultava veramente noioso tre, non mi è piaciuta la comicità Leo Ortolani cerca di essere ironico a tutti i costi anche troppo, questo mi affatica la lettura tanto che le bambine vengono spesso definite con dei soprannomi che o sono parole inventate o sono parole, nomi propri di persone magari famose che hanno delle determinate caratteristiche che dovrebbero far ridere ma io molto spesso queste persone non le conosco non capivo le battute e non mi faceva ridere avrò sorriso due o tre volte in tutto il libro mentre vedo che c'è uno sforzo in mano di fare il simpatico che per me insomma non coinvolgeva in nessuna maniera quindi purtroppo mi devo dissociare da quello che pensano gli altri genitori adottivi su questo libro non è male, è carino, si legge volentieri, figuriamoci però ho letto di meglio secondo me ci sono libri migliori per approcciarsi all'adozione più coinvolgenti e perché no anche scritti meglio perché oltretutto questo è scritto come fossero delle lettere che le ortolani scrive agli amici quindi in maniera molto colloquiale proprio come se raccontasse a voce qualcosa e a me questo tipo di scrittura non piace molto comunque questo è quello che penso altro libro che ho letto durante l'estate in realtà questo però non ce l'ho con me perché l'ho prestato a mia sorella è Donne che amano troppo di Camilla Lekberg sono arrivata a leggere questo libro con grandi aspettative perché amo Camilla Lekberg ma purtroppo questo libro non mi ha conquistata se avete visto il book vlog non mi ricordo se è di giugno o di luglio insomma lo sapete che non mi ha presa in pieno la storia parla di tre donne che in qualche maniera scusate se sentite dei rumori ma c'è il temporale fuori allora questo libro appunto parla di tre donne che subiscono tre tipi di violenze di abusi da parte degli uomini un tradimento, violenza fisica e praticamente quasi un rapimento un sequestro quindi una donna costretta tra le mura di casa senza potersene andare liberamente tre tipi di abusi molto gravi che secondo me non vengono vengono trattati prima di tutto tutte alla stessa maniera e non sono così insomma ci vogliono dei pesi e delle misure per ognuno di questi e in più non viene approfondito in nessuna maniera il punto di vista psicologico delle tre donne le quali appunto provano una rabbia indiscriminata per questi uomini e in alcuni casi le capiamo in altri casi meno sto parlando ovviamente del tradimento che per la situazione per come viene descritta lì non è assolutamente paragonabile a una violenza fisica o a un sequestro di persona quindi diciamo che mi è sembrato tutto un po' buttato là non so come posso dire un po' trattato in maniera molto superficiale le tre donne decidono di vendicarsi ovviamente non vi dirò come e tutto scorre liscio non ci sono ostacoli ai loro progetti o alle loro idee o insomma ai loro obiettivi e questo in un libro secondo me un po' ci deve essere sembra quasi un racconto lungo si legge molto velocemente si legge bene però manca qualcosa altro libro che ho letto durante l'estate questo l'ho veramente divorato in tre giorni al mare è stato Buonanotte a te di Roberto Emanuelli allora avete presente tre metri sopra il cielo eccolo qua romantico romantico in una maniera spropositata storia adolescenziale ma soprattutto amori adolescenziali e rotture adolescenziali che ci portano a soffrire dei peggiori dolori d'amore quindi diciamo una storia molto molto non direi banale ma comunque molto smielata oh però ragazzi alla fine quando l'ho letto io l'ho letto volentieri nel senso che forse in quel periodo avevo bisogno di una storia così leggera è la storia di diciamo parallela di due persone due personaggi una ragazzina che è stata lasciata dal suo primo amore e quindi sta affrontando è alle scuole superiori non so se in quarto in quinta superiore sta affrontando quindi questo primo dolore cerca di farsi aiutare da un gruppo di amici molto affiatato e l'altro è un uomo invece che ha diciamo dedicato la sua vita al lavoro alla carriera è arrivato a diventare un uomo fissato con i soldi appunto con la carriera e il lavoro quindi un traditore un uomo che fa uso di droga eccetera e sta con una donna che si dispiace per questo cambiamento che negli anni ha avuto quest'uomo e appunto insomma soffre di a vedere l'uomo che ama ridotto in questa maniera quando però il nostro questo protagonista si renderà conto che sta per perdere la donna che ama allora ecco ricomincerà a rivalutare tutta la sua vita e a capire quali sono stati i suoi errori e a cercare di rimediarli allora il libro come ho detto è questo c'è un finale anche molto carino che mi ha sorpresa piacevolmente sorpresa quindi sicuramente è un libro che se avete voglia di qualcosa di leggero io vi consiglio ovvio non potrei fare una recensione senza elencare i difetti che ci sono primo fra tutti i dialoghi non mi sono piaciuti in nessuna maniera secondo me quando si scrive un romanzo i dialoghi sono molto difficili e molto importanti lo so perché io ho dovuto lavorarci molto per farli sul mio romanzo quindi è una cosa che ci faccio sempre caso qui sono troppo uguali alla realtà e questo è l'errore cioè questo è abbastanza chi scrive lo sa il dialogo deve essere veritiero ma non deve essere uguale alla realtà perché su carta non rende altra cosa è il fatto che la nostra la protagonista qui legge delle volte tipo su un blog delle cose scritte da qualcuno che lei ammira molto non ricordo i nomi comunque delle persone che scrivono dei pensieri d'amore o d'amicizia e lei appunto va a leggerli sul blog se le piacciono poi li ricondivide questi pensieri delle volte erano veramente lunghi e un po' noiosi perché erano molto smielati molto pieni di non so di metafore super romantiche insomma dopo un pochino pesavano e quindi a volte li saltavo e poi l'altra cosa che mi ha un po' così lasciata un po' perplessa è il fatto che qualunque personaggio questi giovani ragazzi incontrassero qualunque persona incontrassero questa persona aveva una perla di saggezza da regalargli e questo poteva essere un datore di lavoro che non li aveva mai visti prima così come un barbone per la strada avevano tutti o l'insegnante di canto avevano tutti una perla di saggezza da regalare del tipo siete giovani godetevi la vita la vostra vita è adesso quest'estate non la scorderete mai l'amicizia è la cosa più importante del mondo senza gli amici il vostro cuore non batte bla 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 vabbè ma a parte questo insomma in generale come ho detto è tutto l'insieme poi che alla fine funziona e si legge veramente velocemente anche perché è un bel librozzo però io ci sono arrivata alla fine quindi insomma come ho detto il finale è carino e magari se sia che in un momento che avete bisogno di qualcosa di leggero questo fa per voi e l'ultimo libro di cui vi parlo è zazan ce l'ho fatta l'ho finito storia della bambina perduta di Elena Ferrante finalmente ho letto l'ultimo volume anzi dovrei dire che l'ho ascoltato perché appunto ho ascoltato l'audiolibro di quest'ultimo volume allora vabbè questa è la conclusione della serie di una delle serie più famose probabilmente degli ultimi tempi quindi avete sentito tanto parlare di questo non mi dilungo troppo il libro parla della parte finale tra virgolette della vita delle due protagoniste quindi dall'età adulta e poi la vecchiaia e vediamo come le storie sono andate avanti dal terzo volume quindi riprendiamo insomma da dove l'avevamo lasciate comunque se non l'avete letto nel caso mi scappasse qualcosa magari saltate questa recensione perché potrebbe insomma uscire qualcosa che non è uno spoiler per questo libro ma che chi non ha letto i precedenti può non sapere allora ritroviamo i soliti personaggi ma soprattutto torniamo al rione e quindi scopriamo anche tutte le dinamiche che lo regolano e ci rendiamo ancora più conto di come la criminalità sia diciamo radicata all'interno di queste di queste strade a loro tanto familiari sono entrambe mamme e niente ritroviamo i nostri soliti personaggi personaggi che non è quasi possibile amare non ci innamoriamo quasi mai di nessuno qui abbiamo però Lila che rimane per me il personaggio più bello e più ostico da affrontare una donna che anche in questo volume rivela non solo la sua profonda intelligenza ma anche la sua totale incapacità di essere coerente quindi una donna che è capace di dare tanto amore di aiutare gli altri di dimostrare quanto è forte e quanto è incurante del pericolo così come è capace di lasciarsi andare abbandonarsi a se stessa smettere di lottare e rifiutare tutti coloro che gli stanno incontro e quindi arrendersi insomma è un libro che quindi prende tanto come anche gli altri perché i nostri protagonisti hanno dei sentimenti talmente forti talmente travolgenti che li spingono a fare tante cose durante la loro vita che ci portano inevitabilmente ad immedesimarci a renderci partecipi a giudicarli a volerli consigliare voler essere lì per poter dire qualcosa a quei protagonisti che a volte ci soddisfano e altre volte vorremmo solo picchiarli insomma non so se mi sono spiegata è un libro che fa provare tante tante emozioni ovviamente la bambina perduta è il reale colpo di scena tra virgolette che provocherà poi una serie di eventi che porteranno irrimediabilmente alla fine di questo romanzo come ho detto sapete tanto su questi libri ormai quindi non mi dilungo oltre la serie mi è piaciuta non è la mia serie preferita in assoluto ecco l'ho letta super volentieri ma ho sentito persone che l'hanno terminato proprio con le lacrime agli occhi magari ecco per me non è stato così forse proprio perché ho provato antipatia quasi per tutti per tutti i personaggi soprattutto per i due protagonisti l'unico difetto che ho trovato all'interno di questo libro nella storia è il fatto che la protagonista che racconta quindi Elena è ha dei comportamenti con i propri figli che secondo me non coincidono molto con il periodo storico nel quale vive non sono comportamenti impossibili ma piuttosto improbabili le libertà che lascia i suoi figli le libertà che si prende per se stessa le ho trovate a volte sarebbero quasi fuori luogo qui nei tempi di oggi quindi magari negli anni 80 lo erano ancora di più però come ho detto magari è la cosa intenzionale io l'ho solo trovata un pochino forzata per l'epoca ma a parte questo insomma in generale il libro non ha non ha difetti anche perché è curatissimo anche dal punto di vista storico politico e così via l'unica cosa è che appunto io ho provato talmente tanta antipatia per loro quasi non ho condiviso nessuna scelta che loro che i protagonisti fanno che anche finire la storia in realtà mi ha quasi liberata ecco non mi ha dato un grande peso comunque se voi l'avete letta fatemi sapere che cosa ne pensate qual è la sensazione che ha lasciato a voi bene ragazzi il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto e soprattutto fatemi sapere cosa avete letto voi durante l'estate questi sono i libri che ho letto ma noi non preoccupatevi ci vediamo presto in un altro video ciao 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 Grazie a tutti.